Entrano nel vivo le celebrazioni del giorno del ricordo istituito 11 anni fa a memoria delle tragedie dell'esodo, delle foibe e delle questioni del confine orientale. Corone sono state deposte in mattinata a cura unitariamente di tutte le associazioni degli esoli al monumento all'esodo in Piazza Libertà e poi a quelli dedicati agli infoibati, ai caduti e alle vittime dell'ecidio di Vergarolla sul colle di San Giusto, oltre che al monumento all'esodo araboiese. Il tutto in attesa della cerimonia solenne di domani alla foibe di Basovizza con inizio alle 10. Domani pomeriggio tra gli eventi clou del ricco programma ci sarà a distanza di 17 anni un nuovo confronto tra Gianfranco Fini e Luciano Violante moderato dal nostro direttore Luigi Bacialli col direttore del piccolo Paolo Possamai. L'appuntamento è alle 15 ridotto del Teatro Verdi, un dialogo pubblico sul tema foibe ed esodo 70 anni dopo, riflessioni, contributi, idee per il consolidamento della memoria nazionale con i protagonisti dello storico incontro del marzo 98 che diede avvio al percorso di riconoscimento di quella parte della storia. La presenza al dibattito di Gianfranco Fini ha già suscitato polemiche in parte della destra cittadina, ma l'intento dell'Unione Istriani è in primo luogo culturale. Un momento interessante, un appuntamento culturale, naturalmente noi lo intendiamo e lo abbiamo inteso in questo senso, ed è negabile che i due personaggi che arrivano a Trieste e che nel marzo del 1998 appunto si incontrarono, dettero il via ad un percorso che poi portò dopo alcuni anni al giorno del ricordo. E quindi credo sia interessante, a distanza di tanti anni, con una situazione geopolitica mutata, con Slovenia e con l'azienda dell'Unione Europea, rifare quelle riflessioni per vedere che cosa c'è ancora da fare, io credo sia molto, e che cosa invece è stato fatto. Telequattro riprenderà l'intero dialogo pubblico che sarà trasmesso mercoledì sera, 11 febbraio, alle ore 21.